Beh, ciao a tutti! Come potete vedere, oggi voglio parlarvi di Rectify. Sono arrivato di corsa, perché in realtà si fa molto presto. E torniamo a noi e ciao! E' oggi qua, ed ecco a voi, Rectify. Rectify è un'opera che spiegherò in poche parole, ma mi fermerò molto a parlarvi invece dalla fine della mia impressione, ma partiamo come sempre dall'inizio e di cosa stiamo parlando. Oggi stiamo parlando di Rectify, è un solo GDR realizzato dalla Hanson Publishing e il cui autore, scrittore e game designer è Chris Shep, Sheperson, eccolo qua. Allora, Rectify è una cosa molto particolare, partiamo direttamente dal setting. L'idea è esattamente... non è difficile spiegarlo fondamentalmente. L'idea di fondo è esattamente quella di giochiamo l'ingresso nell'inferno. Giocheremo un personaggio che va all'inferno e fa il suo percorso di ammenda, perché posso tradurre Rectify in ammenda in realtà, di ammenda iniziale, in cui lui fa un percorso di comprensione di sé e decide se alla fine accetta la morte e quindi l'inferno, o in qualche maniera fa ammenda dei suoi peccati e del suo percorso. Questo è il setting. L'idea di fondo è esattamente questo, è molto semplice, potete immaginare. Totalmente diverso in realtà il sistema delle regole, infatti come vedete si è molto rapida la parte iniziale. Perché? Perché Rectify è un sistema di regole abbastanza intenso, per lo dire drammaticamente intenso. È un solo RPG, ok? Quindi è un gioco di ruolo solitario, il journaling, ed ha solamente cinque fasi. Si ha esattamente sei. La prima, che è la fase zero, ecco perché conto sei, è la creazione del personaggio, che richiede molto tempo in realtà, per quanto non abbia nessun tipo di regola. Ti chiede di creare un personaggio nella sua interiorità, nella sua completezza, pensare a quali possano essere i suoi peccati, perché è finito all'inferno, e decidere anche qual è la forma della sua vita, che l'ha circondato, perché ha fatto queste scelte. Di fatto creare un personaggio a tutto fondo, molto impegnativo in termini di creazione. Perché molto impegnativo? Certo, posso tranquillamente dire, faccio un perdone perché ho ucciso delle persone per mangiare. Può essere molto breve. Ma nel percorso del Rectify, cioè nel percorso del gioco, questa roba verrà sviscerata moltissimo. E oltretutto alcune delle meccaniche che vengono messe in campo per superare le cose, sono talmente tanto invasive, che letteralmente stimolano volontariamente il bleed. Cioè ovvero il bleed, il sanguinamento, cioè ovvero il travaso di emozioni che c'è tra personaggio e giocatore, giocatore e personaggio. Le meccaniche che mette in campo Sep sono talmente forti, talmente eccessive in alcuni aspetti, che oggettivamente non vogliono la parete tra giocatore e personaggio. Di conseguenza, per quanto ben protetto da tutti i sistemi di sicurezza, il gioco ha delle regole molto particolari. Come vi dicevo prima, Rectify fondamentalmente è un journaling game, quindi il sistema è molto base. Si parte leggendo le introduzioni che lui ti consiglia di leggere, a manuale a proposito spillato, come vi dicevo prima, saranno 36 pagine. Ciao Munch. Uno dei miei gatti. Come vi dicevo, l'importante è partire leggendo le parti che lui si suggerisce di leggere, e poi partono le cinque fasi. Le cinque fasi del Rectify sono molto semplici, che sono la bocca, la gola, la pancia, il fiume di sangue e la fossa. Ognuna di queste ha una preparazione, una specie di piccolo racconto introduttivo di una pagina e mezzo, di due pagine, in cui mostra all'anima brava che sta affrontando l'inferno cosa di fronte a sé lo sta per aspettare. Dopodiché tocca al giocatore. Il giocatore a quel punto interpreta e racconta cosa fa l'anima rispetto alla prova che ha di fronte, e come si relaziona alla vita passata rispetto alla prova che ha di fronte. So che è un po' strano, vi faccio un esempio, ok? La gola. Non ve lo racconto perché è molto bella, sono molto molto pesanti i racconti, sono molto crudi, carnosi, viscerali, biosi. Nella gola a un certo punto si trova immersi in un liquido salmastro, in un liquido viscoso, e tutti gli altri sono spinti in avanti da questi flussi delle pareti, quasi come se fosse un lobo che viene buttato giù, no? Parte, dopo la spiegazione del racconto, il tema. Il tema della gola è lo stupore attraverso la comunicazione, il blocco oltre la comunicazione, e il punto di riflessione è quello di affrontare il dolore che si ha di fronte e cercare in qualche maniera di accoglierlo, nonostante non si riesca a comunicarlo, ok? Ognuna di questi punti, è un esempio, sto parlando di esempi, si va molto più in profondo in questo gioco, ed è uno degli cinque passaggi. Come vedete, all'interno dell'escrizione a un certo punto c'è una frase, una parola esattamente che vuol dire reflection, e qui parte la meccanica fondamentale del gioco. Seb ha messo in campo una delle cose più importanti di questa meccanica, è la deprivazione dei sensoriari del giocatore, per riuscire a raggiungere lo stato di creatività necessario, e di medesimazione per poter vivere l'esperienza. Cosa vuol dire? Vuol dire che Seb consiglia a chiunque di deprivarsi letteralmente sensorialmente, chiudendo gli occhi, mettendosi delle cuffie in modo da non sentire rumori, o sentendo uno statico di qualche tipo, per almeno diversi minuti, in modo tale da poter in quel momento immedesimarsi e creare il pezzo narrativo. Questa è la base in tutte le prove. Ogni volta si fa una prova del gioco con il personaggio, ci si deve deprivare di sensi per una decina di minuti, e immaginare in quel momento la situazione, la scena e cosa succede. Dopodiché quando si esce da questa fase di deprivazione sensoriale, si può aggiornare il diario con le scelte del personaggio. E a questo punto, se vogliamo continuare la storia, potrebbe anche essere successo che il personaggio non vuole o non accetta questo percorso di ammenda. Se ciò accade, il giocatore può fare qualcosa fisicamente per supportare il proprio personaggio. Vi faccio un esempio della gola. Giusto anche se si parlava ora della gola. Una cosa che può fare l'ammenda, o meglio, quella che viene chiamato... Questo è il mouse, che era ancora più bello, la gola è un po' più tranquilla. I pledge che possano fare i giocatori per portare avanti il personaggio e quindi aiutarlo è, per esempio, ricongiungerci a un amico molto lontano o a un vecchio amore. Non vale un messaggio o una mail, deve essere fatto vocalmente, quindi per chiamata o per incontro. Un altro esempio, unirsi volontariamente a una linea di aiuto, a un gruppo di supporto, a una soap kitchen, per esempio, o a un gruppo di samaritano simili, cioè ovvero interagire personalmente con qualcuno che ha bisogno di aiuto e fare un'azione del genere. Confessare a qualcosa che si è tenuto al segreto per moltissimo tempo o che è molto importante per sé. Relazionarsi con la voce e usare la voce del giocatore per trasmetterla al personaggio. Il personaggio vive un momento di astonishment, di blocco delle sue emozioni dato dall'impossibilità di comunicare e il giocatore comunica per permettere al personaggio di proseguire. Questa è ogni delle cinque fasi ha la stessa cosa. Nella bocca una delle scene possibili è riempirsi la bocca di ghiaccio e aspettare che si scioglia completamente tutto quanto prima di proseguire. In ognuna c'è la sua. Sono tutte quante delle spinte, degli stimoli anche estremi che si dà al giocatore per frangere la parete e mettere in una condizione psicofisica da poter vivere l'esperienza del personaggio che ha una fase di ammenda nell'inferno. Questo è quanto le meccaniche. Si fa per cinque volte, si arriva in fondo, si prende la decisione cosa vuole fare il giocatore, il personaggio alla fine. Questa è la meccanica. Quindi di fatto è... Di fatto... Andiamo al punto. Di fatto più che un gioco è un gioco esperienziale. Letteralmente è un gioco d'esperienza. L'impressione che ho avuto leggendolo è che il punto focale di Seb fosse stato quello di attraversare il limite tra giocatore e personaggio e farlo attraverso delle meccaniche che lui a quanto pare conosce in maniera molto a profondità che sono riguardanti la stimolazione dei sensi e la deprimazione sensoriale. Ne parla, la spiega, ne ha delle sue opinioni e soprattutto suggerisce una serie di pratiche da poter utilizzare per vivere delle esperienze in queste fasi di deprivazione da poi trasmettere nella narrazione in modo da poter capire o vivere l'esperienza del personaggio. Estremo, spinto, sì, tantissimo. Una via di mezzo tra un gioco, un'esperienza, un esperimento, una meccanica. Tutto molto fluido in questo aspetto. Di conseguenza, cos'è Rectify? Rectify dal mio punto di vista più che un gioco di journaling game in solitario è un banco di prove esperienziale per provare dei nuovi livelli di connessione con altre narrazioni, trovare modi diversi per potersi entrare o immergere in un gioco. Queste meccaniche sono spinte, dal mio punto di vista, ma semplicemente il mio, potrebbero essere più che vali per molti altri. Certamente è quella classica opera che si pone ai margini del mondo del gioco di ruolo e fondamentalmente giunta alla parete permeabile di narrazione, di gioco di ruolo e il resto del mondo si mette lì e comincia a darci delle forti spinte per cercare in qualche maniera ad andare oltre. Rectify fondamentalmente fa questo. Fine. Ciao, buon ciao. Ecco a voi. Rectify. Ciao a tutti!